E' la gente che sta male. E' davanti all'ospedale. E' la polizia, andai per l'ambulanza. C'è la gente che è andata a fare il cambio di terapia, ragazzi. E' la polizia, andai per l'ambulanza. E' la polizia. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.